Ciao nonna! Ciao Paolo, tutto bene? Luca, Andrea, Maura, Orso, com'è che ti chiami? Daniele. C'è, ho la testa andandomane. Vieni micio. Tutto bene? Eh, non tanto. Perché? Eh, perché ieri sono andata in bagno e ho fatto un chilo e tre di merda. No, ma non mi interessa quello che hai fatto. Eh, ed è da ieri che c'è odore brutto e non capisco perché. Ma come? Eppure hai chiamato l'idraulico e mi ha detto di far scendere l'acqua che così passava l'odore. Non l'hai fatto? Sì, sì, ma l'odore c'è lo stesso. Forse non era un vero idraulico. Anche secondo me. Bello micio. Grazie.